Lascia il vertice regionale per anzianità ma rimane in carica nell'organico territoriale del sindacato CISL, Gianfranco Giorgi, il segretario regionale uscente, che da oggi lascia il posto al neoletto Paolo San Germano. Giorgi traccia un bilancio riguardante le criticità del territorio aquilano al collasso dal punto di vista occupazionale ed economico. Imprese aquilane tagliate fuori dalla ricostruzione, spiega Giorgi, e tasso di disoccupazione giovanile ai massimi livelli, aumentato solo all'Aquila del 15% negli ultimi tre anni. Il grande problema della nostra provincia è l'occupazione per i giovani e la ricostruzione qui non parte, quindi voglio dire anche qui dovremmo cercare di incidere. Non parte per la religiosità che c'è tra le forze politiche, regione, comune, la gente stufa e penso che insomma a breve qualcosa accadrà. Non è più tollerabile per posizioni politiche che i cittadini devono rimanere ancora fuori casa ed aspettare non so quanto per ricostruire il centro storico e quant'altro. C'è anche da dire che sono poche le imprese aquilane al lavoro? Sono pochissime e questo non si riesce a capire, ma è anche vero che in una zona come l'Aquila, o meglio in una zona, parlo di quella del cratere, dove doveva essere il più grande cantiere d'Europa e quindi dovevano crearsi posti di lavoro, invece la gente viene licenziata perché le imprese sono ferme e non so se continueranno a lavorare perché hanno annunciato che se non vengono pagate sicuramente il loro impegno cesserà. Un'emergenza occupazionale e sociale cattanaia l'Aquila e i comuni del cratere, una crisi che tocca maggiormente le piccole e medie imprese e è pertanto indispensabile, dice Giorgi, danno in piena applicazione alla zona franca urbana, anche se all'Aquila con il governo Monti è pressoché mancante una rappresentanza istituzionale di riferimento. Il mio ruolo all'interno della CISL dopo quasi 40 anni di carriera, commenta Giorgi, insieme al congresso del sindacato, è quello di occuparmi dell'area territoriale aquilana. Esco per il limite di età ma continuerò il mio impegno a organizzare la CISL dell'Aquila e il suo territorio. Avrò il compito di seguire la sanità provinciale e nonché quello che riguarda la ricostruzione.